Grazie. Grazie. Buonasera, siamo qui purtroppo davanti a una sala vuota, quasi vuota, però ormai ci stiamo abituando a questa situazione, non so se è un bene, però dobbiamo dire che questi strumenti ci consentono di fare cose che fino a un anno fa sembravano impensabili. Ah, scusate, io sono Paolo Romagnoli, presidente dell'associazione Amici delle Parmolevi Valle del Reno, e come dicevo appunto questi strumenti ci consentono di fare le conferenze a distanza, corsi a distanza, conferenze a distanza che poi abbiamo visto che sono molto gettonate perché centinaia di persone si sono collegate e quindi hanno goduto diciamo di questa possibilità. I corsi che sono in programma li stiamo finendo, quelli del primo periodo, online e quelli del secondo periodo inizieranno tutti con la modalità online, poi vedremo cosa succederà, ma io non sono molto ottimista. Ad ogni modo, questa è l'ultima conferenza inserita nel programma della Festa della Storia, cui noi siamo ben felici di partecipare, sono già diversi anni e speriamo di continuare anche nel futuro a continuare questa bella abitudine. Vi voglio solo dire che alla fine del mese ci sarà un'altra conferenza inserita negli eventi del Giorno della Memoria, che sarebbe il 27 gennaio. Noi invece avremo una lettura spettacolo del gruppo Leggio, è il 29, venerdì 29 gennaio. Quindi si parlerà di un argomento sempre forse un po' rimosso nella coscienza degli italiani, cioè i campi di concentramento in Italia. La storia di un'internata, Maria Eisenstein, internata numero 6. Quindi era giusto una nota di servizio. Ecco, a questo punto io passerei la parola al nostro docente di storia dell'arte, Daniele Guarnelli, che tratta sempre i suoi temi con passione e competenza, fa parte di un nucleo, diciamo, di giovani e meno giovani docenti che sono caratterizzati proprio da queste caratteristiche. La conferenza di questa sera sarà dal titolo Avanti Savoia, identità dell'arte italiana, breve storia di una non facile sintesi. Ricordo anche che il 9 febbraio inizierà il corso di Daniele Guarnelli, e quasi certamente online, che tratterà di quattro grandi artisti dell'arte moderna. Magari poi, Daniele, se vuoi approfondire un attimino, insomma, credo comunque che si parlerà di Van Gogh, Boldini, Picasso e Gary. Bene, io lascio la parola a Daniele. Grazie mille, grazie mille dell'invito. Vorrei dire grazie di essere venuti, ma non vedo nessuno, per dire la verità, quasi nessuno. Devo dire, la situazione è molto simpatica e curiosa. Allora, il Festival della Storia, dal titolo La Storia, siamo noi, cambiamo il mondo, ma il mondo cambia noi. Quando la Primo Levi di Casaricchio mi ha chiesto di contribuire al cartellone con una chiacchierata, mi è subito venuta la domanda, ma sì, la storia siamo noi, ma noi chi siamo? È chiaro che quando si parla di arte e di storia si parla anche di identità. E l'identità è un tema sempre molto ricco e davvero interessante. E infatti che questo tema si svisceri, diciamo così, in epoca ottocentesca principalmente, anche se non solo, mi ha portato a questo titolo così militante, avanti Savoia appunto. Perché? Perché la conferenza di cui state per assistere questa pièce teatrale, One Man Show, di fatto tratta di tanta storia, vedrete anche molte carte geografiche, ha un taglio molto storico, e ce l'ha perché in qualche modo è necessario fare mente locale con la storia e con le componenti storiche per ragionare appunto sull'identità e quella che è in effetti l'identità dell'arte italiana. Un tema abbastanza particolare. Iniziamo subito con una pillola riassuntiva fondamentale e necessaria. Siamo dopo il congresso di Vienna sostanzialmente e questa è la mappa dell'Europa. Abbiamo tre nazioni che fondamentalmente riconosciamo quasi uguali per come siamo abituati a vederle nella nostra mappa geografica attuale. Il Portogallo, la Spagna, la Francia, anche l'Inghilterra, certo c'è l'Irlanda che sta ancora dentro a questo grande impero britannico, ma fondamentalmente sono nazioni che hanno già una faccia definita. Poi abbiamo questa area centrale molto particolare, vedete, con un'Italia completamente divisa, come abbiamo imparato a conoscerla, la Germania che è ancora completamente divisa. Abbiamo invece quell'area che noi siamo abituati a vedere tempestata di piccole nazioni, invece riassunta fondamentalmente dall'impero asburgico e dall'impero ottomano. Questo è il momento successivo al congresso di Vienna del 1815. Quindi dopo, accanto a 1814-1815, il 15 è la data della battaglia di Waterloo. Da questo momento si parla appunto dell'Europa della restaurazione, ma la cenere delle guerre napoleoniche, della rivoluzione che stava alla base, cova, piano piano. E l'Ottocento quindi è il secolo dove davvero si formano le coscienze nazionali dei popoli europei. È il secolo che partorisce i nazionalismi, per come li chiamiamo noi e per come li intendiamo noi, quei nazionalismi che poi hanno fatto i danni che abbiamo conosciuto nel corso del XX secolo. Ed è il secolo però che più indaga, più si cervella su che cos'è propriamente francese, più propriamente spagnolo, italiano, tedesco, eccetera, eccetera. Ma per parlare d'Italia è ovvio, dobbiamo buttare un occhio proprio sul nostro penisola. Nel 1948, lo sapete, c'è un 48. Succedono le rivoluzioni, quelle cenere di cui si era parlato, deflagrano in tutta Europa. Assolutamente, in tutta Europa, è una cosa incredibile. In Francia il governo cade, addirittura la rivoluzione arriva a Vienna, nella capitale imperiale. E questo permette qualcosa di prima impensabile, permette a un piccolo staterello, agguerrito ma di piccole dimensioni, che è appunto il regno di Sardegna, e quindi alla dinastia Sabauda, di tentare una cosa che era impensabile, andare contro l'Austria-Ungheria. Che prendeva, che aveva e possedeva, come è noto, Trento, Trieste e il Lombardo-Veneto, che qui vedete delineato con un colore specifico, ma era ancora Austria-Ungheria. È la prima guerra di dipendenza. È una guerra che viene fatta poi anche con l'aiuto di davvero tanti uomini che vengono mandati dal Regno delle Due Sicilie, dalla Toscana, dallo Stato Pontificio, i Bergamaschi, eccetera, eccetera. Ci si crede un po' tutti, ci si prova, va male, va male perché non ci sono le strutture, non c'è l'esperienza, e poi c'è Radeschi che è un grande generale, quello che, come sapete, alla cui musica, alla cui marcia si balla a Capodanno. La cosa va male, però, però, intanto ci si è provati. E la volta successiva, e siamo nel mille, e qui vedete la data nel 1861, ma in realtà è nel 59, la seconda guerra di indipendenza, questa volta ci si riprova. È noto, Cavour riesce ad allearsi con la Francia di Napoleone III e quindi il Piemonte, quindi il regno di Sardegna, con le truppe francesi battono gli asburgici, battono gli austriaci, prima con la battaglia di Magente, poi in particolar modo con la battaglia di Solferino e San Martino della battaglia. È un'epoca storica, una cosa incredibile. Si va, dice Cavour, andiamo anche a prendere il Veneto e poi andiamo su fino a Vienna. Ma Napoleone III, dopo la battaglia di Solferino, dice basta. Si mette d'accordo con Francesco Giuseppe, Franz Josef, quello di Sissi, che era peraltro dall'altra parte della barricata, e fanno l'armistizio. Di fatto la guerra finisce lì. L'Italia, il regno di Savaudo, non può continuare da solo contro gli austriaci e dunque si sono costretti a finirla lì. La Lombardia passa ai Savoia, sì, però tutto il resto basta, niente altro capita. Ma la carta che vedete rappresenta in un azzurro meraviglioso un passo successivo che nessuno, Cavour in testa e Vittorio Emanuele II in testa, sarebbero mai aspettati. Perché dopo questa vicenda, dopo questo armistizio, che viene sentito come una cosa orribile da tutti, succede che è noto, Garivaldi parte per l'impresa dei Mille e contemporaneamente i Savoia, l'esercito Sabaudo, si mette contro l'esercito dello Stato Pontificio, vince la battaglia di Castelfidardo e Umbria e Marche entrano nel Regno d'Italia e ancora un attimo prima ci sono i plebisciti, i plebisciti che porteranno gli stati di Modena, Parma e le legazioni pontifici della Romagna con Bologna e la Toscana all'interno dello Stato. Quindi si trovano avanti a questa situazione, una situazione di uno Stato quasi completo, a cui si perde, peraltro, Nizza e Savoia. Nizza e Savoia erano il contentino che Cavour aveva dato a Napoleone III in caso di vittoria contro gli austriaci. Però Napoleone III aveva deciso di fermarsi lì con l'armistizio nel 59 e quindi in quel momento non gli vengono date, ma dato che ci sono i plebisciti e c'è tutto il resto, a questo punto Nizza e Savoia vengono concessi. E poi è storia. Bisogna aspettare al 1866 per la terza guerra di indipendenza, che noi chiamiamo terza guerra di indipendenza, in realtà è la guerra prussiano-austriaca, a noi va malissimo, perdiamo a Custosa per terra, perdiamo a Lissa per mare, però i tedeschi vincono, o meglio i prussiani vincono, e gli austriaci ci danno il Veneto, o meglio lo danno ai tedeschi che proprio passano a noi, esattamente come avevano fatto prima quello a Lombardia. E poi ancora, bisogna aspettare al 1870, Napoleone III viene sconfitto di nuovo dai prussiani e lui che, come dire, proteggeva lo Stato pontificio e proteggeva Roma, questo permette, con questa sua sconfitta, permette la breccia di Porta Pia e dunque ecco che si è formato sostanzialmente uno Stato a cui manca Trento Trieste. Queste sono le vicende storiche, quindi nel 66-70 siamo di fronte a una nazione bene o male fatta. e però c'è il problema, come è noto. La frase è attribuita a Massimo D'Ateglio, che peraltro era anche un pittore, quindi anche un buon paesaggista, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. E non è un problema da poco. La nazione, sono secoli e secoli, che è divisa. E naturalmente questo ha un peso nella creazione appunto di un conglomerato, di una qualcosa di unito, di un senso patrio, che sì, c'è, perché l'idea dell'Italia c'è, c'è sempre stata, però qualche passetto in avanti bisogna ancora farlo e ce ne saranno molti da fare. anche in arte questo è necessario. Bisogna iniziare a ragionare e l'arte ha un ruolo forte. Perché? Perché non c'è la televisione, non ci sono mezzi di, come dire, di visivi particolari, se non la pubblicistica, i cartelloni e i libri. I quadri sono qualcosa di importante e qualcosa di significativo, che possono dare e contribuire, insomma, dare un proprio contributo alla coscienza nazionale. E allora, innanzitutto, innanzitutto, la pittura ottocentesca italiana recepisce l'epopea vittoriosa della seconda guerra di indipendenza, in particolar modo. Nella prima, no, maluccio, ecco, nella terza, sì, abbiamo vinto, perché hanno vinto gli altri, ma almeno nella seconda abbiamo vinto. E a San Martino della battaglia, Vittorio Emanuele II si scaglia contro gli austriaci, insomma. Ecco che quindi, ritroviamo pittori italiani degli anni Sessanta, dell'Ottocento, i lombardi, i veristi, diciamo così, se vogliamo chiamare così, in parte scappigliati, ma in realtà non sono scappigliati, e i toscani, i macchiaioli, che propongono, per esempio, e si trovano appunto, questi quadri si ritrovano nei musei del risorgimento italiani, quello di Milano, per esempio, con questo quadro di Girolamo Induno, che appunto racconta la battaglia di Magenta, 4 giugno 1859, o a quello di Torino, o i vari musei del risorgimento italiani. E quindi si vedono gli eserciti italiani e francesi, in amorevole amicizia, combattere contro gli striaci, che naturalmente sono i cattivi di turno. e dunque la polvere da sparo, la concitazione, i mordi per terra che muoiono, però, però, però c'è la vittoria. E si crea qui, si inizia a creare appunto un'epopea italiana vincente, che è quella di cui la nazione ha bisogno, perché insomma, un po' come qualsiasi squadra di calcio, per tirarsi un po' su qualche vittoria serve e fa morale. E quindi lo si vede anche nel campo toscano, in questo caso, con il pittore macchiaiolio più famoso che è Giovanni Fattori. Vedete qui il campo italiano alla battaglia di Magenta con addirittura, vedete qui in basso a sinistra il carro con le suore che danno conforto. Si sa, peraltro, che proprio in questa campagna nascerà la croce rossa internazionale tra Solferino e San Martino della battaglia. Quindi un'iconografia militante, un'iconografia che non nasconde anche, attenzione, i problemi e, come dire, i tentendamenti. Il bollettino del giorno 14 luglio 1859 che annuncia la passe di Villa Franca del Museo del Risorgimento di Milano ritrae appunto il momento in cui c'è la gente che rimane di sale perché sono a Milano e pensano adesso andiamo a liberare Venezia e andiamo forse anche oltre. Ma le cose non sono così perché Napoleone III in qualche modo tra virgolette tradisce e si mette d'accordo. E dunque si ritraggono anche questi momenti storici in maniera molto coerente. i bersaglieri sono i grandi personaggi i grandi eroi naturalmente e insomma varie sono le serie iconografiche che raccontano gli uomini italiani che vanno appunto alla guerra e appunto cercano di fare il loro dovere per la patria. E quindi vedete i berretti qui hanno accatturato alcuni austriaci che hanno le divise bianche non a caso sono un po' biondini come è giusto. Allora fino adesso abbiamo visto però un'iconografia appunto militare perché si è vinto c'è bisogno di questa poetica di questa narrazione come se fossero dei telegiornali del giorno d'oggi la necessità di portare avanti questo discorso. Però la pittura ha anche un altro compito in quanto come dire organismo culturale pulsante della nazione ha il compito di riflettere con immagini la storia d'Italia e andare a ragionare su quali sono evidentemente in qualche modo i miti e gli elementi fondamentali su cui unirsi e unificare. L'Ottocento è appunto questo è un grande momento di ripasso storico che è anche abbastanza interessante anzi lo è senza dubbio crea dei miti per esempio in Italia si capisce subito che la figura di Dante Alighieri è una figura fondamentale per la storia italiana ok questo potrebbe essere naturalmente tema per un'altra conferenza quindi la accenno solo ma è naturalmente uno dei fondatori della lingua italiana un personaggio così importante uno dei geni della letteratura mondiale insomma questo è sicuramente un personaggio ma ma naturalmente nel corso e qui vedete un'opera del 1836 quindi ancora la patria sè da fare ogni zona d'Italia che cosa fa? Abituata a secoli di autonomia ripensa inevitabilmente a iconografie proprie della propria storia qui siamo di fronte a un quadro che si può vedere alla Galleria d'Arte Moderna di Ferrara con di un pittore come spesso accade i pittori italiani della prima metà dell'Ottocento non li conosce nessuno questo Domenichini è un pittore locale ferrarese che non conosciamo di fatto perché chi lo conosce chi si interessa di Domenichini avete mai visto una mostra di Domenichini? No ma insomma quello che viene rappresentato è la condanna di Ugo e Parisina questa cosa a Ferrara suona fuori da Ferrara molto meno naturalmente perché è storia locale qual è la vicenda? la vicenda che è abbastanza simpatica peraltro è che siamo negli anni di Niccolò III d'Este che governa praticamente tutta la prima metà del del Quattrocento fino a che muore e va su il figlio Leonello Niccolò III d'Este diciamo era una personalità abbastanza proteiforme ha avuto insomma diverse donne più di diverse donne tanto che come è noto l'adagio dell'epoca era di qua di là sul Po sono tutti figli di Niccolò e a un certo punto sposa sposa Parisina Parisina era malatesta di Cesena la ragazza è giovane ma lui prima ha già avuto tante donne e ha avuto tanti figli ecco uno di questi è Ugo Ugo ha un anno in meno di Parisina e vabbè succede oddio sì in realtà a Ugo Parisina non sta mica tanto simpatica perché è la nuova donna del padre allora se lei avrà dei figli ovviamente saranno loro ecco è questione di eredità tra virgolette ma teniamola breve il risultato è che a un certo punto Parisina ha nostalgia di casa e Niccolò III dice ma certo vai però non ti faccio mica andare da sola aspetta chiamiamo qualcuno vai tu Ugo e scoppia l'amore ovviamente tra i due c'è un anno di differenza il risultato è che i due tornano tutto bene sì sì tutto benissimo però a un certo punto la cosa si sa e nel 1424 insomma lui scopre vengono buttati giù nei sotterranei del castello estense in due celle diverse ovviamente e poi ho anche la data il 21 maggio del 25 c'è la decapitazione dei due personaggi questo l'ho raccontato perché è una storiella carina ma insomma i passaggi di vita come dire locale che poi possono essere anche interpretati in senso nazionale della pittura ottocentesca ve ne sono naturalmente qui abbiamo Hayes il grande pittore neoclassico e romantico della prima metà dell'ottocento italiano forse il personaggio il personaggio il pittore più famoso via e qui abbiamo un'opera della Galleria d'Arte Moderna di Roma siamo nel 1846 due anni prima del 48 quindi due anni prima della 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 prima guerra di indipendenza e ricordatevi sono poi questi gli anni in cui insomma Verdi iniziava la sua carriera e quando il coro del Nabucco eccetera eccetera aveva Verdi aveva un significato perché gli austriaci insomma lo facciamo breve qui Hayes riprende i veri siciliani siamo appunto in Sicilia siamo alla fine del 200 in particolar modo nel 1282 il sud Italia che un tempo era governato da Federico II Reunstaufen beh come è noto Federico il cui figlio Renzo poi è stato sbattuto in gattabuia a Bologna nel palazzo omonimo a un certo punto muore i figli Manfredi non ce la fa di fatto il sud Italia viene preso dagli Angiò che è un ramo cadetto del re di Francia della casa di Francia ma succede una roba succede un fatto che non a caso poi è spesso è spesso legato si lega molto spesso a come dire un fatto tra uomini e donne ecco un alterco basico succede che il 30 marzo del 1282 sul sagrato della chiesa di Santo Spirito a Palermo un soldato francese di nome Drouet ha un di fatto un alterco con una nobile donna che stava uscendo dalla chiesa che si era appena sposata questa cosa fa crescere una baruffa e di fatto questa diventa la miccia di una ribellione siciliana che farà in modo poi che la Sicilia tutta si emanciperà dal governo straniero francese degli Angiò per poi darsi in realtà agli Aragona e quindi sempre degli stranieri ma non importa rimane il fatto che è sempre una storia che parte appunto da un alterco uomini donne ecco da un fatto d'onore e che poi sboccia in qualcos'altro come vedete sono iconografie che alludono allo straniero e io qui non l'ho messa un'immagine altrettanto significativa ma ci poteva stare per esempio un'immagine della disfida di Barvetta primi anni del Cinquecento forse qualcuno si ricorda anche il film con Bud Spencer che vedo dare abbastanza spesso in questo periodo i cavalieri italiani che si battono con i cavalieri francesi per stabilire chi sono i migliori ma insomma questo tema in qualche modo nazionale interessato la gloria patria continua ancora con un pittore con un pittore appunto toscano macchiaiolo Vincenzo Cabianca qui abbiamo i novellieri toscani certo Cabianca insomma è chiaro che i macchiaioli fanno base a Firenze e poi comunque a Livorno e quindi hanno la toscanità nel cuore ma in questo caso come è facile capire esaltare ed evocare i novellieri toscani vuol dire esaltare la grande letteratura del Trecento italiano toscano e italiano e quindi uno dei più alti momenti della storia della letteratura europea e dunque anche questo è un tema iconografico che insomma di carattere storico che cerca di contribuire alla e di manifestare con uno spot con un'immagine la storia patria un altro caso abbastanza interessante vedete l'adattazione viene sempre più seriore qui siamo nel 66 68 c'è stata la seconda guerra di indipendenza anzi scusate la terza guerra di indipendenza e gli italiani un po' ce l'hanno qui contro i francesi che li hanno lasciati Napoleone III li ha lasciati indietro bloccandosi nella seconda guerra di indipendenza a Villafranca e che tengono bloccato Roma con le truppe francesi ecco che appare un soggetto di nuovo della gam di Ferrara sempre di un pittore locale con Savonarola al conspetto di Carlo VIII questo è un altro fatto storico che appunto è noto agli storici certo ma non al giorno d'oggi non è poi particolarmente noto è il momento nel quale il re di Francia in questo caso Carlo VIII scende giù in Italia verso il sud Italia perché dato che gli angiò un tempo erano i proprietari del regno del regno del reame diciamo del regno di Napoli e poi negli anni 40 agli angiò si erano sostituiti anche a Napoli gli Aragona succede che appunto a fine secolo alla fine del 400 nel 94 95 Carlo d'angio prova la sortita e prova ad andare a recuperare il regno di Napoli in realtà ce la farà poi però una coalizione di stati italiani si mette contro di lui e i francesi devono tornarsi a casa ma qui in questo caso siccome il pittore è di Ferrara che cosa succede succede che a Firenze in quegli anni lì negli anni in cui Carlo sta scendendo effettivamente c'è un ferrarese che si chiama Girolamo Savonarola ecco e questo ferrarese ha una storia importante in realtà poi fa una brutta fine come a tutti noto perché insomma verrà abbruciato ma in questo caso ci fa la sua bella figura e convincerà Carlo VIII che voleva assediare la città di Firenze a fermarsi e dire no ci fermiamo qui voi proseguite Firenze non la toccate quindi un altro episodio storico un altro episodio che uno quando passa in queste gallerie d'arte moderna oppure in questi musei del risorgimento dice ma chissà che cosa rappresenta perché non sono proprio fatti a tutti i noti ho ancora un paio di queste pillole poi procediamo ma chi conosce credo nessuno Provenzano Salvani oddio qualcuno forse lo conosce se ha sfogliato la Divina Commedia perché Dante in Divina Commedia lo cita lo mette lo mette in purgatorio perché lo mette in purgatorio perché Dante si sa ne mette tanti personaggi in purgatorio Provenzano era un senese e fu un condottiero italiano era un capo ghibellino tanto che ebbe un ruolo importante di primo piano nella battaglia di Montaperti la famosa battaglia di Montaperti del 1260 quando all'epoca peraltro Farinata di Gliuberti che era un ghibellino pure lui ma era fiorentino espatriato buttato fuori da Firenze anche lui citato da Dante insomma combatte contro i fiorentini quindi Guelfi e ghibellini adesso arriviamo anche a questo ma alla fine insomma il nostro Provenzano poi morirà nel 1269 alla battaglia di Collo e Valdezza verrà fatta una grande festa per la sua morte la sua testa verrà tagliata portata in giro come si faceva amabilmente all'epoca ma insomma questa era la prassia dell'epoca perché c'è questo quadro perché e perché viene messo qui naturalmente in palazzo pubblico senese come un trofeo un'opera del 1873 l'Italia già bella che fondamentalmente è fatta perché si sa che e lo racconta peraltro nella commedia di Dante anche un miniatore che si chiamava Derisi da Gubbio voi capite chi mi conosce quanto questo mi faccia felice a quanto pare Provenzano un bel giorno si mise a chiedere l'elimosina ai suoi compatrioti ai suoi cittadini per andare a riscattare un amico prigioniero di Carlo d'Angio stiamo parlando appunto sempre degli Angio di qui sopra e dunque qui viene rappresentata questa scena che è citata dalla Divina Commedia che come vedete è un testo fondamentale anche per la come dire la creazione di un immaginario nazionale di glorie e patrie ed eccoci qua con il caro Provenzano con la manina così che chiede qualche spicciolo non per comprarsi le sigarette ma per andare a liberare il suo amico dai francesi tornando a bomba sulla questione ghibellina poi c'è da citare ci sono da citare i funerali di Buon del Monte in questa opera della Galleria d'Arte Moderna di Roma questo è un quadro del 1860 l'inseriazione è un po' successiva ma siccome abbiamo appena parlato di ghibellini l'ho spostato qua perché? perché questa è un'opera una cosa che viene citata anche sempre da Dante nella Divina Commedia quanto pare questo Buon del Monte venne ucciso a Firenze nella Pasqua del 1215 per aver mancato alla promessa di matrimonio fatta una donna della famiglia Amidi e averle preferito Beatrice Donati questa cosa non si fa non si fa è questione di insomma sono cose serie all'epoca i matrimoni erano contratti abbastanza circostanziati che determinavano come è noto alleanze e non alleanze e quindi a quanto pare la leggenda vuole che una delle leggende vuole in realtà che da questo dissidio di famiglie si creino queste fa si crea questa faida fra quelli che saranno poi chiamati Guelfi e quelli che saranno chiamati Ghibellini questa è una delle storie in realtà come è noto come persino all'epoca all'età di Dante nel 300 non se lo ricordavano neanche loro qual era la ragione per cui c'era questa faida questa divisione e perché ecco certo di solito vengono i due nomi delle due fazioni vengono fatte fatte risalire da una parte alla casata dei Welfen appunto che stava dalla parte dell'imperatore e dall'altra dai signori del castello di Weiblingen da cui verrebbe fuori insomma non voglio fermarmi più di tanto su questo è chiaro però che anche qui siamo di fronte a un passaggio interessante importante diciamo della Divina Commedia che viene ripreso e utilizzato come straordinaria bellissima opera peraltro vedete come immagine significativa di storia d'Italia una storia che diciamola tutta al giorno d'oggi si ignora in maniera abbastanza notevole ho un altro paio di immagini che velocemente scorriamo e poi continuiamo con con un altro taglio della chiacchierata qui abbiamo la morte di Giovanni Maria Visconti che è un membro della casata Visconti a quanto pare era un tiranno e nel 1412 viene abbattuto viene verrà assassinato da delle famiglie della Milano dell'epoca non la Milano da bere ma la Milano da da tagliare viene viene ucciso davanti la chiesa di San Gottardo in corte quindi vicino al duomo fatto sta che anche qui quest'opera del 1889 ora a Brera molto bella viene rappresentata la l'assassinio di un tiranno perché questo Giovanni Maria Visconti non era particolarmente ben voluto peraltro nella Milano dell'epoca le cose succedevano perché anche un altro suo successore sarà assassinato questa volta davanti al chiesa di Santo Stefano Galeazzo Maria Sforza ma insomma sarà una cinquantina di anni di anni dopo un'ultima immagine e chiudiamo con questa parte un po' tetra un po' curiosa per iconografia è un quadro questa volta di un pittore importante insieme a Daez è quello più famoso Gaetano Priviati questo bellissimo artista che poi diventerà un grande maestro del divisionismo ma che vedete a tardi anni 70 crea e realizza questa immagine che è ancora un pezzo di storia pulsante del mondo italiano in questo caso appunto pienamente rinascimentale con appunto Cesare Borgia a Capua Cesare Borgia si sa il figlio del Papa di Alessandro Tessi nel settimo Papa Borgia che cercherà poi come è noto di farsi una sua signoria nella Romagna e andò anche a insediare Bologna marito anche in parte ma insomma tagliamo tagliamo la corta il fatto succede appunto all'inizio del 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 1501 viene mandato giù in a Capua qui siamo nel merito del conflitto fra fra quelle che saranno le due potenze che si disputeranno l'Italia nella prima metà del 500 quindi Francia e Spagna viene mandato lì e c'è il famoso sacco di Capua Capua si arrende come si faceva all'epoca da uomini civili se vi arrendete non vi succede niente i capoani dicono ok Cesare Borgia dopo che vengono aperte le porte della città fa la porcata ecco e da via libera alla sua soldataglia che ne fa di tutti i colori e in questo caso quindi abbiamo un soggetto un soggetto un soggetto che mostra questo questo marasma no di soldataglia che si permette di fare tutto quello che vuole nel palazzo nei palazzi del potere capuano ho quindi una pagina drammatica che in questo caso racconta e si permette di ricordare che l'Italia è stata dibattuta tutta la prima metà del Cinquecento ma poi anche oltre fra francesi e spagnoli poi ci si metteranno si sa gli austriaci e quelli ce li abbiamo qui perché sono ancora lì a Trento a Trieste e quindi scegliamo soggetti come questi bene e fin qui abbiamo fatto e abbiamo raccontato in qualche modo come la cultura italiana e in particolar modo la pittura italiana reagisce alla ricerca di una storia patria questa sezione di chiacchierata di conferenza potrebbe durare all'infinito perché nei musei del risorgimento nelle pinacoteche ce n'è caterve di questi fatti e ripeto molto spesso ci si va davanti e non si capisce di cosa venga rappresentato perché sono soggetti che a noi non sono certamente noti ecco ma ma adesso dobbiamo parlare di stile perché è chiaro che nel momento in cui l'Italia si fa nazione bisogna anche ragionare su qual è l'arte nazionale sarà mica cosa nel secondario anzi è una cosa importante perché a tutti noto è a tutti chiaro che se c'è una cosa di cui si può essere orgogliosi certo è l'arte abbiamo avuto una pletora di pittori una pletora di scultori una pletora di architetti che hanno lavorato dovunque in Italia in Europa e dunque dobbiamo ragionare su qual è l'arte nazionale e su quali sono i modelli fondamentali per esempio i modelli che insegniamo nell'accademia quelle stesse accademie dove i pittori che avete visto hanno imparato ma per farlo dobbiamo ragionare un po' anche sugli altri perché non è facile per gli italiani e adesso cerchiamo di andare a spiegare il perché proviamo a fare una mente locale passando i rassegni agli altri perché fondamentalmente se ci pensate il problema dell'identità dico una cosa filosofica ma insomma è una cosa più che banale nasce quando si è più di uno se sei da solo non c'è più di tanto problema dell'identità l'identità il problema dell'identità nasce nei confronti degli altri chi sono io se c'è qualcun altro ecco e qui stiamo parlando di nazioni stiamo parlando di appunto di grandi nazioni e allora proviamo a ragionare partiamo da una nazione piccola ma attenzione una nazione piccola è una nazione già dal XV secolo il Portogallo Portogallo ha già quella forma a metà del XV secolo e dunque è una nazione interessante quindi una nazione che ha sono 500 400 anni alla metà dell'800 450 anni che ha quella forma però il Portogallo si sa insomma ha avuto quel XV secolo così bello pieno di navigatori che hanno fatto la storia però a livello artistico non tantissimo è stato più che altro un paese di importazione arte fiamminga arte spagnola arte italiana fondamentalmente però quando nell'800 il Portogallo deve che è il secolo dove si ragiona sulla propria identità e quindi anche sull'arte nazionale quando il Portogallo deve cercare di capire qual è la propria arte nazionale e beh è facile è l'arte manuelina chi mai di voi è stato in Portogallo ed è stato appunto nei grandi monasteri qui in questo caso nel monastero di Tomar ecco Tomar è quell'arte che che appunto utilizza quel lessico marinaresco per la decorazione molto bella molto particolare molto curiosa delle partiture architettoniche dell'epoca i portoghesi hanno facile nel trovare l'arte nazionale è quella lo stile manuelino fatto sotto appunto re manuele e gli spagnoli beh gli spagnoli hanno una vicenda un pochino più complessa perché hanno all'interno tra virgolette tra virgolette beh anche no diverse nazionalità ecco la cronaca quotidiana degli ultimi anni ha visto come dire il tentativo di indipendenza catalana e la mappa che abbiamo qui di fronte che cos'è è quella 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 situazione che viene creata dagli anni 60-70 del 400 fino poi al 1492 quando Isabella d'Aragona scusate quando la corona di Castiglia d'Aragona si mettono insieme Castiglia Leon e Aragona e poi nel 1492 è noto prendono l'ultimo lembo musulmano in Spagna Granada creando quella forma di Spagna che è a tutti noi nota certo la Spagna ha una storia comunque importante ha avuto grandi periodi diversi periodi artistici rilevanti però provate a pensare poteva essere uno stile nazionale spendibile nell'ottocento che ne so lo stile Mudejar cioè quello stile che si rifà alle decorazioni musulmane no perché anche se adesso lo è percepita come tipicamente spagnola ma nel corso dell'ottocento vuoi mai che il tuo stile nazionale sia rappresentato dalla Lambra che è una cosa islamica e quindi del Maghreb ecco no non c'è dubbio la grande arte spagnola è quella di Velasquez è quella di Murillo è quella di Zurbaran è quella del grande siglo de oro spagnolo e quindi del 600 e qui vi metto un quadro fra i tanti la presa la resa di Breda di Velasquez è questo il momento dove effettivamente la Spagna ha uno sviluppo artistico talmente grande e importante che insomma non c'è dubbio quello è l'arte nazionale quello è il momento di interesse quello è la cosa che ci qualifica a livello artistico e qualifica la nostra cultura certo c'è Goia sì per carità però quello è il momento e l'Olanda il Belgio queste sono due nazioni che come noto si sono separate nel corso del 500 quando appunto la faccio breve insomma l'Olanda cerca di separarsi dalla Spagna in cui lì erano territori sotto il governo spagnolo poi si sa le due entità nazionali vengono riunite dopo il congresso di Vena ma poi si separano di nuovo e rimarranno separate e quindi abbiamo qui vedete nella mappa l'Olanda sopra questa è un'immagine appunto del 5600 con le province unite come vengono chiamate in arancione in orange appunto e in verde invece la parte del Belgio come siamo abituati a conoscerla e per queste due nazioni è difficile trovare il secolo d'oro quell'elemento fondamentale che rappresenta al massimo la loro cultura beh no perché per quanto riguarda gli olandesi il secolo d'oro della pittura olandese è il 600 è il secolo di Fermere di cui vedete l'allegoria della pittura del Consessorius Museum di Vienna di Rembrandt di Hals e dei grandi paesaggisti troppo facile non c'è problema gli olandesi nel corso dell'Ottocento che sono consci e consapevoli come adesso perché poi è chiaro che questo percorso di costruzione di identità porta orgoglio ancora oggi come è inevitabile giusto che sia è la grande pittura del 600 in Belgio c'è una una possibilità in più perché la grande arte del Belgio fiamminga nasce già nel 15esimo secolo e quindi i grandi pittori fiamminghi che come dire dialogano da pari a pari con gli italiani Van Eyck Van der Weyden Petrus Christus Hugo van der Huge e compagnia bella grandissimi artisti straordinari che bebbero peraltro un successo clamoroso quindi sicuramente il Belgio trova orgoglio della propria pittura in Van Eyck e quindi nel 15esimo secolo e poi naturalmente nel grande altro momento dell'arte belga che è quello del 600 con Rubens Van Eyck Jordens e tutti i grandi pittori che lavorano tra Andersa Bruxelles e Limitrofi anche qui non c'è un grosso problema perché fondamentalmente dopo non voglio dire che non ci sia niente ma insomma i momenti di gloria sono quelli lì e la Germania mamma mia qui c'è da mettersi le mani nei capelli perché la Germania ha una storia così complessa che ancora oggi come dire in realtà riverbera nella contemporaneità basti dire che quel patchwork frammentario che vedete qui datato 1500 circa in qualche modo ancora ha continuato per secoli e anche oltre all'unificazione tedesca successiva alla vittoria contro i francesi nel 1870 71 e con la firma di Versailles di quell'anno perché perché se ci pensate anche dopo ma anche se c'era il Kaiser l'età di Guglielmo I Guglielmo II in realtà continuavano a esistere il re di Baviera il re del Baden ecco smetteranno di essere e avere questo status con la fine della prima guerra mondiale e in realtà se ci pensate ancora oggi questa differenza è molto forte perché i land tedeschi come si sa dalla cronaca quotidiana hanno una forte indipendenza una forte indipendenza che è tale che a pensarci bene è incredibile c'è un partito c'è una zona dell'Ollanda tedesco come la Baviera che ha un partito nazionale bavarese che è la CSU che corrisponde alla CDU nazionale cioè come se ci fosse un adesso per dire citiamo un partito che non c'è che è così come se ci fosse una democrazia cristiana pugliese e una democrazia cristiana nazionale per dire una cosa inconcepibile ora e la Germania come è messa a livello di storia dell'arte beh la Germania ha avuto un bel momento dal punto di vista di pittura e nell'Ottocento è la pittura che è quella che conta principalmente ed è un momento che però deve essere declinato in varie modi perché qual è il problema il problema è che nel corso di quello che è il risorgimento tedesco come è noto c'è da prendere una grande decisione e cioè saremo Grossdeutsche oppure Kleindeutsche e cioè la Germania l'unità dei tedeschi dovrà essere fatta mettendo insieme tutti tutti i tedeschi quindi anche gli austriaci il che significa portare dentro però anche tutta la zona non propriamente tedesca come gli slavi gli italiani ecco oppure Kleindeutsche cioè una Germania esclusivamente tedesca che tenga fuori gli austriaci che peraltro non ci stanno neanche troppo simpatici ecco questo è il tema e quindi alla complessità generale si crea anche questo tipo di complessità ulteriore questo doppio nazionalismo che poi ha anche una componente legata alla dimensione culturale e poi anche alla pittura stessa che cos'è tedesco e che cos'è austriaco voi capite che sono cose diverse ma dicevo c'è un momento molto bello molto importante di storia dell'arte tedesca che è quello fra la metà del 400 e la metà del 500 è il momento di Albrecht Dürer che è uno dei grandi geni del rinascimento tanto quanto Leonardo tanto quanto Raffaello e quindi sicuramente una carta spendibile però è vero anche che dopo questo momento le cose cambiano e in particolar modo diciamo l'epoca della riforma in Germania creerà un sacco di danni e poi la guerra dei 30 anni insomma in Germania di arte se ne fa molto poca tra 6 e 700 e comunque non è come dire una carta sufficientemente alta come quella di Dürer per poter dare un segno alla nazione come che sia sicuramente questo è un elemento poi c'è anche qualcos'altro per esempio c'è i germani i tedeschi insieme al mito della Germania pura di Tacito ecco hanno Carlo Magno sicuramente che viveva in quei posti lì a Quisgrana è adesso Germania le adunate imperiali che venivano fatte a Francoforte sul meno o zone simili quindi sicuramente l'età carolingia e quindi il medioevo pieno ecco è un luogo storico e anche culturale quindi con l'arte connessa io faccio un discorso generale ma qui su ogni cosa ci sarebbe veramente da perdersi con una miriade di esempi l'epoca carolingia è sicuramente un momento importante della storia e quindi un momento di cui ci si può sentire orgogliosi anche qui insomma se ne sarebbe ma la cosa è molto curiosa però perché Carlo Magno di cui vedete qui un'opera di Albrecht Dürer di Nuremberg nel 1512 contemporaneamente insomma sì è tedesco ma contemporaneamente era franco e quindi era anche francese questa questa duplicità è manifestata pensate nonostante qui il problema della nazionalità sia ancora ben lungi da venire ma rappresentata da Dürer 1512 con cosa con l'utilizzo lo vedete sopra la testa del barbuto imperatore da una parte l'aquila imperiale asburgica ok dall'altra i gigli di Francia e quindi del re di Francia così in questo modo Dürer si è messo la coscienza in pace così ha detto sia gli uni che gli altri non mi possono dire niente e dunque la Francia la Francia che che vediamo qui ormai creata come nella forma che tutti noi conosciamo con queste addizioni che vengono seriate fra 6 e 700 siamo l'età del re sole la Franca Contea l'Alsazio la Lorena eccetera eccetera l'Artois anche la Francia naturalmente rivendica il suo Carlo Magno perché dice i franchi siamo noi e quindi non si può mica negarlo ma accanto a questa la Francia ha un elemento in più di arte nazionale attenzione nel corso dell'Ottocento ci sono gli impressionisti per carità tutta quella roba lì siamo d'accordo ma stiamo parlando di come dire della capacità di identificare l'arte nazionale quello che è francese perché nel corso dell'Ottocento e poi la cosa verrà importata anche nel corso della prima metà del Novecento come è ovvio e come sappiamo tutti questo è un tema importantissimo che poi ci ricorderemo insomma l'epoca dell'autarchia fascista il cambiare i nomi il vocabolario i prodotti solo italiani adesso non voglio parlare di contemporaneo la Francia ha un asset fondamentale e cioè il gotico il gotico è francese ci hanno messo un po' gli storici locali prima di arrivare alla soluzione definitiva perché anche i tedeschi rivendicavano questa cosa e non solo i tedeschi ma poi alla fine si è stato stabilito senza alcun dubbio il gotico nasce negli anni 30-40 del XII secolo a Saint-Denis quindi l'abbazia dei re di Francia e poi dall'Ide France si irradia un po' in tutta Europa e quindi la cattedrale di Notre-Dame senza dubbio e quindi dei grandi cattedrali francesi e quindi dal punto di vista francese che di grandeur ancora insomma tiene e quindi il gotico che verrà esportato negli altri paesi altro non è che la conferma del fatto che è la France d'abord l'altro grande pretendente al gotico era ovviamente la Gran Bretagna che qui in maniera molto appropriata vedete è definita in rosa staccata dal Galles dal regno di Scozia e dall'Irlanda ma questa è una mappa del 1550 il Galles verrà preso di fatto sotto da un ricottavo sotto il ricottavo la Scozia è nota dal settecento entra dentro poi l'Irlanda e poi adesso stiamo a vedere come va a finire nell'epoca contemporanea l'Inghilterra non si può dire che abbia prodotto grandi artisti li ha prodotti forse solo nel sette ottocento ecco al punto di vista pittorico dal punto di vista architettonico invece non c'era dubbio il gotico il gotico il gotico tanto che quando si tratta di fare costruire un parlamento inglese ex novo il parlamento di Londra fatto da Pugin e Berry è degli anni 40 70 dell'ottocento ed è gotico tutto fatto con le colonnine i pinnacoli lo stile è quello è una persistenza quella gotica che adesso non mi voglio perdere perché è davvero interessante ancora nel seicento ci sono architetture inglesi che non si capisce se è l'ultima coda del tardo gotico o la prima avanguarda del neogotico per dire che questo era e fu il loro stile certo quando alla fine si stabilì che il gotico nacque in Francia un pochino di scorno c'era però in fondo poi l'Inghilterra nel corso dell'ottocento dominava il mondo e quindi stiamo per chiudere questa parte di carrellata esterna e per poi andare a chiusura noi poi abbiamo la Grecia la Grecia che come vedete acquisisce l'indipendenza nei primi anni 30 dell'ottocento qualcuno si ricorda addirittura che Lord Byron andò appunto a morire a Missolunghi c'è anche nella mappa proprio per l'indipendenza greca dopodiché qui vedete una successione di addizioni del territorio prima c'era appunto solo il Pelloponeso Atene l'Attica eccetera eccetera poi piano piano la Tessalia la Macedonia parte della Tracia ci fu anche un tentativo dopo la prima guerra mondiale di annettersi la zona la zona turca ma Ataturk riuscì a ributtare i greci in mare c'è bisogno di molti dubbi su quale debba essere l'arte l'arte greca no nessuno non serve alcun commento la grande arte classica di cui giustamente ancora i greci portano l'orgoglio e il giusto orgoglio attenzione a questo punto dobbiamo ritornare sull'Italia e ci conserviamo l'ultima porzione di nostra chiacchierata su questo tema e l'Italia c'è un'arte c'è un periodo c'è un'arte nazionale che può essere come dire sintetizzata eh allora innanzitutto volendo fare un percorso ci sono gli etruschi sì ma gli etruschi carini eh simpatici però hanno dominato solo la Toscana parte del Lazio parte della pianura padana cosa vuoi non possono certo ambire poi comunque eh non hanno non hanno uno status così eh forte no gli etruschi no non possono rappresentare un modello ci mancherebbe ehm peraltro gli etruschi vengono anche poi in parti dominati dai 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 galli dalla cultura celtica che prende mezza pianura padana e quindi i galli boi Bononia i galli seni Senigallia e via così no certamente questi non sono modelli di riferimento culturali non ci interessa l'arte poi è roba vecchia per carità no c'è l'arte romana ci mancherebbe Roma il grande la grande la grande eredità dell'arte romana e dunque di Roma dell'eredità politica di Roma certo eh un qualcosa di straordinario sì però siamo ancora nell'ottocento l'Italia è stata fatta e c'è un po' un problemino allora la storia romana è divisa in due parti tra virgolette c'è la storia repubblicana ok Roma una repubblica ai Savoia questa cosa piace poco è chiaro che a livello di modello culturale pensare di come dire certo Roma per carità è un'eredità mondiale siamo d'accordo ma a una monarchia trarre spunto da da una da una da una repubblica non non piace tantissimo del resto voi vi metterete a ridere ma pensateci Mazzini veniva considerato come un criminale adesso sta nei musei del risorgimento nelle piazze accanto a Vittorio Emanuele II ma questi qui si odiavano se i Savoia avessero preso Mazzini via la testa ecco lo stesso Garibaldi era un repubblicano poi obbedì per la causa nazionale ma insomma il tema è importante e quindi no niente repubblica questa cosa ve la evoco con il Tarquini e Lucrezia che è di nuovo un episodio come dire di bassa basico di questo stupro che creerà la faccio breve che creerà poi un sommovimento da cui nasce la repubblica appunto di Roma prima alla fine appunto dei setterra di Roma e nasce la repubblica quindi la repubblica no la Roma repubblicana insomma allora però la Roma imperiale certo cavolo la Roma di Augusto e la Roma che è anche la Roma che come dire prende l'arte greca e la la fa diventare propria e la esporta in tutto il mondo quindi qualcosa di glorioso sì però però questa esportazione del mondo crea questa cosa qua che è un impero che prende mezzo mondo conosciuto all'epoca allora se l'impero romano è sicuramente una gloria d'Italia però l'ottocento è il secolo che va a indagare come dire l'elemento specificamente italiano precipuo ecco l'arte romana è universale l'impero romano è qualcosa di cui hanno beneficiato tutti certo siamo noi anche se in realtà non puoi dire etnicamente è un miraggio che noi siamo i romani dell'epoca ma comunque è senza dubbio la nostra penisola ma voi capite che sono modelli diversi se in tutta Europa nel corso dell'ottocento ci si spacca la testa per decidere questo è francese e poi di là c'è un confine lì c'è la Germania questo modello imperiale globale non funziona più di tanto allora guardiamo agli imperi barbarici sì a pensarci bene tutte le nazioni d'Europa in qualche modo traggono spunto da un da un modello e dall'epoca barbarica fondamentalmente i visigoti in Spagna lo si sa i franci in Francia poi anche in Germania però insomma sono entità nazionali da cui scaturisce piano piano e si sa perché lo si sa scaturisce piano piano un'identità territoriale specifica i burgundi in Svizzera e va bene e in Italia chi c'è? sì ci sono gli ostrogoti che mica male gli ostrogoti peraltro guardate c'è tutta la penisola che è presa si va anche un po' oltre Dalmazia Costa Azzurra mica male peraltro ma in fondo questo va bene potrebbe andare bene perché culturalmente anzi a livello di ambizioni è come dire lo spazio vitale da sogno italiano però gli ostrogoti durano 50 anni poi finiscono e vengono buttati via dai bizantini fuori dai bizantini i bizantini si sostituiscono non ho messo la slide ma durano poco anche loro e vengono dominati verranno piano piano conquistati dai longobardi a pensarci bene sono i longobardi come dire la popolazione di radice italiana nel senso che è la vera dominazione barbarica consimile a quella franca consimile a quella visigota in Spagna però i longobardi hanno una grande sfortuna non riusciranno mai a conquistare l'Italia tutta anzi è colpa loro se l'Italia è stata divisa per secoli e secoli perché se vedete i longobardi sono quelli in azzurro riescono a prendere nel 500 scusate nel 572 il nord Italia ma non la pianura padana Ravenna no la Toscana poi Spoleto e Benevento che saranno i due grandi ducati nel 652 all'epoca di Rotari beh un passo avanti è stato fatto c'è curiosamente c'è lo stato della chiesa che ancora non esiste ma insomma ha la forma dello stato della chiesa cioè con Lazio un parte dell'Umbria Marche e Romagna qualche lembo di Italia meridionale rimane ancora sotto le mani bizantine ancora nel 744 nel 751 nel 751 sì stanno quasi per farcela sono rimaste fuori Venezia Roma Calabria Puglia e le isole ma poi è noto arrivano i carolingi e la situazione si frammenta ulteriormente quindi i longobardi non vanno bene anzi sono i responsabili a livello come dire storico di aver diviso l'Italia perché da questo momento in poi e iniziamo ad andare verso chiusura ve lo prometto da questo momento in poi l'Italia viene frammentata è uno specchio rotto infranto e però sono momenti comunque ugualmente fondamentali perché a pensarci bene questa è una mappa del 1300 siamo di fronte all'età dei comuni l'età dei comuni l'età nel quale gli italiani hanno governato i mari con le grandi le quattro potenze marinare erano i più ricchi d'Europa gliela danno anche all'imperatore Federico Barbarossa e non solo un'epoca straordinaria l'epoca di Dante Petrarca Boccaccio eccetera eccetera l'epoca dove dove si crea una sorta di proto-capitalismo e di proto-democrazia perché i comuni si autogestiscono Siena con i nove e si cambia il governo bellissimo quindi potrebbe essere un momento fondamentale e questo il momento giusto che può rappresentare l'Italia è cavolo però i comuni si odiavano a vicenda e se la sono data di santa ragione per tutto questo periodo non solo all'interno dei comuni come abbiamo visto ci sono gli espatriati guelfi e ghibellini se una città è guelfa i ghibellini vengono buttati fuori città se non vengono ammazzati quindi insomma e viceversa quindi no no non va bene non va bene il rinascimento il rinascimento qui siamo in un'Italia del 1499 ma siamo più o meno nella stessa situazione grande vanto italiano grande momento di come dire gloria patria ma di nuovo è l'età di Machiavelli è l'età dove dove gli uni si smettono con gli altri ed è l'età che spalancherà a quella già evocata periodo di dominazione straniera no nel quale appunto Franza Spagna e compagnia bella governeranno l'Italia bene andiamo iniziamo ad andare dalla chiusura ma a questo punto a fronte di tutto questo qual è l'arte italiana allora adesso per noi per il nostro occhio per il nostro come dire per il nostro sentimento attuale la domanda è sì ma qual è il problema è tutta l'arte italiana è ovvio no ma per l'epoca in epoca ottocentesca non si poteva dire è tutta eh no troppo facile anche perché c'era in corso una sorta di quello che potremmo chiamare nation building cioè creazione di un'identità nazionale è chiaro che quando devi creare non puoi dire tutto eh no ci sono c'è necessità di creare dei simboli di avere dei simboli quali sono le gli elementi fondamentali dunque dell'arte italiana che nel corso dell'ottocento escono fuori non è difficile già immaginarlo per esempio eh per esempio qui abbiamo di fronte un quadro che sta qui ho segnato National Gallery in realtà è di proprietà della regina d'Inghilterra e viene spesso esposto alla Queen's Gallery di Londra quindi a due passi da Buckingham Palace viene rappresentata la Madonna di Cimabue portata in processione dalle strade di Firenze è un'opera di Friedrich Layton un pittore inghese metà dell'ottocento per gli inglesi non c'è dubbio la grande arte italiana è quella toscana e perché è quella toscana? per forza perché perché la toscana ha avuto la fortuna di avere Vasari Giorgio Vasari che con le sue vite è stato capace di creare certo una una hit parade da Cimabue a Michelangelo di tantissimi artisti anche non toscani certo ma dove è chiaro a tutti che il centro propulsivo propulsante dell'arte è Firenze e i toscani sono i migliori c'è qualcuno che ancora lo pensa ma insomma evitiamo va bene e dunque la toscana la toscana la toscana di Masaccio certo della grande creazione prospettica che ha saputo influenzare il corso della pittura europea nei secoli successivi la toscana di Botticelli che ancora oggi è la cartolina una delle cartoline più straordinarie della cultura italiana e voi capite che poi questi discorsi poi hanno portato a quel pop diciamo così a quella capacità popolare che queste opere per esempio con una nascita di Venere ha ancora oggi in tutto il mondo ecco simbolo di italianità e come vedete i simboli sono importanti la toscana la toscana che che ha saputo poi attenzione qui e quindi la cosa poi funziona grazie al suo insegnamento educare Raffaello e creare la scuola romana la scuola romana di Raffaello e di Michelangelo e dei vari artisti presenti nella città eterna che poi certo continueranno nel corso dei secoli naturalmente l'altro momento forte è il barocco qui non si sta parlando adesso di momenti perché l'arte italiana ha una continuità plurisecolare cinque secoli di capolavori sfornati in continuazione quindi non c'è paragone con le altre scuole artistiche nazionali ma almeno dobbiamo scegliere e qui o meglio questa è la testa degli storici ottocenteschi c'è da scegliere appunto qual è la sintesi e quindi l'asse toscoromano piace perché perché Vasari perché che ci racconta come i toscani siano i padroni i grandi protagonisti della pittura italiana e poi e poi ancora Roma che è poi diventata la capitale della nostra grande nazione ecco giustamente che è la Roma dei Cesari la Roma dei Papi e la Roma dei Savoia perfetto e la Roma naturalmente di Michelangelo adesso questo era troppo facile però attenzione perché c'è anche chi la pensa in maniera diversa voi non vi stupirete che c'è qualcuno nel nord Italia che dice sì ma perché è la scuola veneziana ecco allora questa chiacchierata in realtà io originariamente avevo pensato di farla anche con con diverse letture di storici dell'arte che alludevano in qualche modo a questo tema poi siccome peraltro sono insomma l'aula è vuota e non fare lezione a distanza insomma e tenerla troppo lunga non andrebbe neanche troppo bene quindi ho pensato di evitarla ma è ovvio che i veneziani che ancora oggi hanno un altro un alto senso della propria indipendenza ancora qui ecco e il bello è poi che queste cose permangono anche nella coscienza collettiva e nel senso di identità nazionale e di specificità locale e i veneziani dicono eh sì ma perché la pittura veneta a livello di storia dell'arte c'è per esempio un lionello Venturi che ha scritto un libro abbastanza importante su questo e quindi qui vi evoco per esempio i funerali di Tiziano che vedete qui in questo quadro della gamma di Torino del 1855 Enrico Gamba ve ne faccio vedere anche un altro di collezione privata del 1866 è chiaro che Tiziano Vecellio tanto per intenderci è un pittore straordinariamente importante per la storia dello sviluppo dello sviluppo dell'arte europea perché volendo la pennellata fluida liquida e il colore veneto hanno esercitato maggiore influsso volendo dell'arte toscana anche se naturalmente Michelangelo Raffaello fondamentali certo ma senza Tiziano non ci sarebbe Rembrandt non ci sarebbe la grande pennellata di Delacroix per continuare così fino alla fine dell'Ottocento e oltre e dunque certo Venezia la grande Venezia la Venezia di Bellini del colore quattrocentesco la Venezia guardate che meraviglia una cosa commovente ogni volta la Venezia la Venezia di Giorgione dei grandi quadri allusivi e ancora di difficile interpretazione la tempesta dell'Accademia di Venezia quel colore saturo umorale dovuto a questa grande e meravigliosa ambientazione lagunare che crea con la sua umidità un paste pittoriche meravigliose e naturalmente quella di Tiziano magister straordinario nella creazione di una poetica pittorica che partendo da Giorgione insomma raggiunge vertici di poesia incredibile riconosciuta da tutti gli artisti d'Europa questa era la 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 pietà che lui si dipinse per la sua per la sua tomba quindi Firenze Roma e Venezia è chiaro che la codificazione di queste vette artistiche che rappresentano l'Italia corrisponde poi anche alle tappe turistiche del turismo ottocentesco e novecentesco che ancora oggi poi ci portiamo avanti è chiaro? Tanto che insomma è ovvio che in questo spazio in questa costruzione così forte e così legata peraltro anche allo sguardo straniero perché appunto gli stranieri ameranno Florence ameranno Venice e Rome poi anche Napoli ma insomma è una cosa già diversa ma è chiaro che c'è molto poco spazio per le altre scuole pittoriche per esempio la scuola pittorica bolognese ha fama solo in epoca tardo cinquecentesco seicentesca perché ci sono i carracci e non a caso i carracci che cosa faranno? la loro azione artistica è quella di prendere sostanzialmente un po' di cose un po' di di Firenze un po' di Raffaello un po' di arte classica un po' di pittura e di colore veneziano un po' di correggio e poi mettere tutto insieme e dunque ecco che all'interno di questa galleria e dei volumi che vengono pubblicati nel corso dell'ottocento e nel primo del novecento di arte italiana sono queste le cose che vengono mostrate Firenze Venezia Roma e qualche spazio lasciato per qualche brandello di altri momenti artistici di poche altre scuole pittoriche e non è un caso che sarà compito della storia dell'arte andare a riscoprire nel corso del novecento in particolar modo con Roberto Longhi le altre scuole artistiche ma attenzione c'è un momento di svolta in questa storia che è l'avvento del fascismo perché se prima se fino a questo momento l'arte codificata nelle tappe turistiche Firenze Venezia Roma Rinascimento e appunto Tiziano Raffaello e Michelangelo andava per la maggiore certo per carità non è che l'arte antica facesse schifo ci mancherebbe ma è chiaro che non aveva quello status quella caratura pari a quella che sarà durante il ventennio perché il ventennio qui si vede appunto una chiara direzione politica specifica con un ministro della propaganda che che cosa fa nel tentativo di rinnovare non solo l'Italia come grande nazione in senso di grandeur ma nel tentativo di ripristinare un impero e quindi Albania Libia la Libia era già stata presa ma l'Etiopia in particolar modo Albania ed Etiopia queste due conquiste queste due prese che appunto incoroneranno il re d'Italia anche imperatore come era il Kaiser come era stato il Kaiser eccetera eccetera perché adesso il Kaiser non c'era più ovviamente avendo perso la prima guerra mondiale adesso c'era qualcuno di peggio però ecco che l'arte antica diventa di nuovo e in maniera evidente il modello e il prototipo fondamentale non a caso qui vedete c'è una mostra nazionale dello sport in questo cartellone del 1935 e c'è questo ragazzo giovane balilla o cosa che tiene in mano il suo fascio lettorio e dietro appare il discobolo di Mirone statua ovviamente che appunto originale greca certo però di cui per molto tempo si è conosciuto solo la copia romana e dunque il simbolo della della forza e del carattere nazionale italiano sotto il fascismo diventa l'arte antica come vedete la direzione politica muta in qualche modo il registro culturale esposta l'interesse nazionale da un'arte rispetto a un'altra questo per carità non significa che ne so Raffaello faccia schifo al fascismo assolutamente però il fascismo guarda molto a questa dimensione scultorea e non è un caso che in questo periodo Mantegna che è un pittore non ho messo l'immagine è un pittore roccioso serio il primo che recupera in maniera autentica in qualche modo archeologica la classicità piaccia tantissimo ed è per questa stessa ragione che Mantegna dopo la fine della seconda guerra mondiale ci si mette un po' prima di riapprezzarlo perché 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 fa un po' fascista fa un po' fascista e ancora oggi secondo me nella percezione nella percezione dell'arte antica questa lontano retorica da ventennio un poco si sente tanto che ed è noto ne parlano i critici cinematografici quelle immagini che abbiamo tutti negli occhi con le attraversate nei film tipo Ben-Hur tipo Cleopatra ma in particolar modo appunto i film del peplum cioè della Roma dei tempi antichi con queste processioni che vengono fatte quella che appunto si immagina essere una Roma originale in realtà Roma era un dedolo di stradine e quelle vie tutte dritte non fanno altro che riprendere le processioni le adunate fatte su via dei fori imperiali create dal fascismo e quindi come vedete il cortocircuito storico inevitabilmente torna siamo alla fine tiriamo le conclusioni di fronte al monolite del foro Mussolini del 32 che prende sì un soggetto egiziano ma ormai romanizzato come è noto gli obelischi ci sono più obelischi in Italia che in tutto il resto del mondo in particolar modo in Egitto beh è ovvio che questo percorso che ho cercato di accennare in maniera molto spiccia senza appunto le dovute citazioni ha avuto una genesi complicata tanto quanto è stato complicato trovare una sintesi di un'identità nazionale nel corso nel corso di quegli anni e anche forse in epoca successiva è a tutti noto che beh i dialetti ecco nel corso dell'ottocento e ancora nella prima guerra mondiale insomma erano una lingua veicolare molto forte rispetto all'italiano standard di Dante trattino Manzoni è altrettanto noto peraltro che è stata la televisione che ebbe un ruolo davvero pedagogico negli anni 50 a unificare il linguaggio davvero da tutte le parti d'Italia e dunque questo percorso anche a livello artistico meglio nella concezione nazionale di un'unità simbolica univoca che possa rappresentare tutti perché il problema è rappresentare tutti voi capite è stata non facile perché perché se dici Michelangelo sia a Roma che a Firenze si sentono coinvolti ma a Venezia no e se dici Tiziano in Veneto in Valpadana si sentono tutti coinvolti ma dalle altre parti no ecco ora chiaro che su questi sono discorsi minori rispetto ai grandi temi dell'identità nazionale ma i simboli servono e sono sempre serviti e dunque è ovvio che questo tema che è stato tratteggiato così velocemente in quel momento ha avuto un significato al giorno d'oggi naturalmente questo non c'è più non c'è più nessuno si preoccupa di questa roba perché l'arte italiana è tutta come dicevo prima il problema è risolto è risolto perché è risolto perché la seconda guerra mondiale ha sancito nel nostro territorio nazionale un diciamo così una ha rappresentato una cesura fortissima che ha imposto alla percezione del nazionalismo una forte diminuzione adesso chiunque inneggia la patria nella nella nostra nazione per carità benissimo siamo tutti orgogliosi però non esageriamo anche perché poi abbiamo i nostri problemi forse anche a livello contemporaneo ma insomma e dunque è un problema in parte risolto ma ma resta il fatto che per molto tempo questo è stato un percorso difficile di difficile unitarietà che in qualche modo rappresentava un parallelismo su quale fosse la lingua maggiormente legittima quella con accento veneziano piuttosto che quella con l'accento napoletano ognuno ha la propria e legittimamente sentirebbe il no sentirebbe quella come lingua veicolare all'epoca rispetto all'italiano standard che poi alla fine ha vinto a fronte della grande importanza dei rimatori e dei scrittori toscani del trecento che abbiamo già citato detto questo però chiudo con davvero una sola pillola perché a fronte di questa nostra percezione che è una percezione di forte differenza in Italia da Palermo ad Osta tutti sono convinti di vivere in un paese quanto mai frammentato perché noi abbiamo avuto una storia siamo stati dominati però in realtà e lancio lì il sasso poi a voi meditarci sopra in realtà rispetto ad altre nazioni noi abbiamo un'unità mi dispiace usare il termine razziale ma è per dire ecco anche a livello linguistico religioso che è difficilmente trovabile in altre nazioni se ci pensate in Spagna non è così in Spagna ci sono dei baschi che non parlano proprio spagnolo i catalani neppure ok in Germania ci sono religioni diverse c'è la cattolica romana e la protestante senza contare le già evocate altre divisioni pensate in Gran Bretagna in Gran Bretagna ci sono nazioni vere e proprie Scozia Galles Irlanda l'abbiamo già citato l'unico paese in qualche modo consimile dal punto di vista insomma da questo punto di vista è forse la Francia ma ma su di questo su questo vale la pena meditarci un attimo su detto questo il discorso sarebbe davvero infinito ma io mi fermo qui grazie per essere venuti anche se non siete venuti siete in due grazie dell'attenzione buona serata e ci vedremo alla prossima speriamo questa volta in presenza buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti